Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Guardate dove mi trovo, nella Graria Skies ragazzi E sono incredibile, vuoi dire che cazzo fa in credito nella Graria Skies? Una nuova serie sulla Graria Skies? No ragazzi, vi pare che mi metto a fare una cosa del genere? Certo mi ha cresciuto un albero nella faccia qui Allora ragazzi, ho letto ieri un commento Uno mi ha chiesto, fai un tutorial su come fare un party nella Graria Skies E voi direte, che cosa stupida, io lo spiego lo stesso Sapete che non me lo penso, no? Spiego tutto, non mi interessa Allora ragazzi, bisogna creare un party sulla Graria Skies L'obiettivo è molto semplice Apriamo il nostro quest book, il libro base di Graria Skies Che si crafta semplicemente con un filo all'interno della crafting Basta mettere un filo nella crafting e esce il nostro libro Lo faccio vedere, guardate Semplicemente può sembrare assurda come Recipe Ma invece è proprio così Dove cazzo stanno i fili in Minecraft qui? Allora guardate, metto al centro O anche all'angolo è uguale E abbiamo il nostro quest book ragazzi E adesso apriamo il nostro quest book Che otteniamo gratis anche all'inizio del gioco E guardate, c'è scritto Click to play again e click here to start Se io clicco play again Ci resetta tutto il libro completamente ragazzi Resetta tutte, tutte, tutte le quest E ci parla tutto, praticamente ci dice a voce Tutto quello che c'è scritto qui a destra A voce, tutto il testo completamente Tipo una cosa assurda Ok ragazzi, andiamo qui Dove vedete click here to start E possiamo cominciare le nostre quest Abbiamo la 1, la 6, la 7 Tutte le altre le sblocchiamo Man mano che completiamo quest Se io aprissi la prima sezione Vedete tutta questa serie di quest Una volta che le ho completate Ad esempio se andate tipo su Su che cazzo ne so Non c'è scritto Vabbè Non c'è scritto perché non me lo fa vedere Finché non le sblocco Prima di man mano che sblocco le quest Mi appare scritto ad esempio Questa quest sblocca qualcos'altro E fa riferimento a tipo questo Al 2, al 3, al 4, al 5 A quello che sia Ok ragazzi adesso andiamo a vedere Come creare il nostro party Clicchiamo con il destro Per tornare al menu principale Riclicchiamo click here to start E vedete che c'è un colore strano Vedete questo è grigio Questo è bianco Questo è trasparente Questo è nero Vedete il colore è diverso Perché abbiamo selezionato Learning to Skyblock E noi dobbiamo deselezionarlo Cliccando con il sinistro Esattamente allo stesso modo Come lo selezioniamo Vedete sulla destra ci dà vite Sono morto 0 volte Ho 2 vite Click here for more info Posso cliccare e vedere l'info Guardate Xander Cage, Jade Cat Che è la nostra tizia Quella che ha creato il modpack E ci dice Vedete Sono morto in lava Sono morto bruciato Sono morto soffogato Sono morto di fame Sono morto affogato Ci dice tutti i tipi di morte Che abbiamo fatto Torniamo al nostro menu qui Allora qui abbiamo il party E c'è scritto Click here to open party window Ragazzi Clicchiamo qui per aprire la nostra Tabella del party Guardate cosa ci appare No party in vice E party name Guardate cosa posso fare Scrivo tipo party Xander Party E posso cliccare Create a party Guardate che succede ragazzi Faccio parte del party Xander Cage È il proprietario del party E abbiamo Live setting Live Shared lives Cioè vuol dire che le vite Sono condivise Se io dovessi cliccare Guardate mi dà Individual lives Cioè ognuno ha le sue vite personali Cioè A differenza del video Che stiamo facendo con Luke Dove abbiamo le vite condivise Qui sono individuali Cioè se uno muore 10 volte È morto Non è che abbiamo 100 vite Tutto il team E poi posso rimettere come prima Shared Poi abbiamo reward setting Abbiamo multiple reward Cioè che tutti ottengono il reward Quando comprendono la quest Invece abbiamo shared reward Cioè che se uno prende reward L'ha preso per tutti E gli altri se la prendono un ponder Così detto Insomma avete capito Poi E se siamo in un server multiplayer Ragazzi Qui in basso a destra Possiamo vedere party list Cioè ci dà la lista di tutti i party Presente nel server Ovviamente ci sto solo io E qui in alto invece ragazzi Possiamo invitare i player Se io scrivessi ad esempio Xander Il nome mio Ricordate di mettere le maiuscole ragazzi Molto importante le maiuscole Perché altrimenti non potete invitare Scrivo il mio nome Faccio invite Cliccando sul mio nome qui Guardate Xander Cage Mi appare questa nuova interfaccia Vedete Cambia E mi appare scritta questa opzione Uno è kick player Cioè posso kickare il player Ovviamente sono io Non posso kickare me stesso Che sono il proprietario L'ultimo membro del party Al massimo posso disbandare Che mi appare qua sotto E devo premere Shift Più control E mi appare Vedete Premendo shift control Diventa possibile E io disbando Come dicevo prima ragazzi Gli inviti appariranno qui sotto Non party invites Se devo giornare in party Mi appare qui sotto L'invito Se è stato invitato Non party Clicco Mi appare l'interfaccia Ok voglio entrare E clicco Ok entro Semplicemente Ok ragazzi Spero che questo tutorial Vi sia stato utile Spero che quello che mi ha scritto Nel commento Veda questo tutorial Almeno è contento E vi saluto ragazzi Se vi è stato utile Vi invito a lasciare Un pollice in ciù In ciù In ciù In ciù In ciù In ciù Un pollice da qualche parte Ragazzi Basta che sfoliciate Vi voglio bene ragazzi Quindi vi ringrazio A tutti gli spocicamenti E commenti E ci vediamo Al prossimo video ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti